Questa sera voglio aprirvi il mio cuore in maniera diversa, non come di consueto da casa mia, infatti non sono a casa mia, mi trovo a Catania, ma vi svelerò poi dopo perché sono qua in questa stanza di albergo e sarà qualcosa di molto importante e sicuramente qualcosa che consolerà grandemente il tuo cuore. Bene, io ho dato un titolo della predicazione ed è più che altro una domanda qual è il problema di Dio nella tua vita? Quindi tieni bene in mente questa domanda perché lo Spirito Santo esige una risposta e quindi vada bene a quello che ascolti perché ti racconterò qualche cosa della mia vita attuale, attuale, per questo mi trovo qua a Catania, ma prima di passare a questa testimonianza vogliamo leggere dalla parola del Signore in Atti degli Apostoli, capitolo 12, dal versetto 1, qualcosa che ci aiuterà e convermerà quello che Dio ha messo nel mio cuore per te. E dice così, in quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei continuò e fece arrestare anche Pietro, erano i giorni degli azimi. Pietro, dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma, ma, e lo dico un'altra volta, ma, fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. Nella notte che precedeva il giorno, in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendetta nella cella. L'angelo battendo il fianco a Pietro lo svegliò dicendo alzati presto e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse vestiti e mettiti i sandali e Pietro fece così. Poi gli disse ancora, metti il mantello e seguimi. Ed egli uscito lo seguiva non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immetteva in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro rientrato in sé disse, ora di sicuro so che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva nel popolo dei giudei. Pietro dunque consapevole della situazione andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche a Marco dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Amen. Gloria a Dio. È bellissimo perché i nostri avversari si aspettano che cosa? Che cadiamo, che falliamo, che torniamo indietro da quella via maestra, vivente, potente, la via che ha un nome e si chiama Gesù Cristo. Loro si attendono proprio questo, un vallimento nella nostra vita. Bene, perché sono qua? Forse perché uno può dire sono in vacanze, no, purtroppo non sono in vacanze. E poi guardo a quello che ho letto, perché i problemi non mancano in nessuna casa, non mancano neanche a noi servitori del Signore, a noi pastori, anzi. Ma allo stesso andiamo avanti convidando e realizzando la presenza del Signore che non ci lascia e non ci abbandona. giorno 24 di gennaio, un giorno prima del compleanno di mia moglie, siamo andati a fare un controllo. Da tempo mia moglie aveva un problema proprio qua, sotto la mandibola. C'era qualcosa che non andava, quindi abbiamo aspettato che andasse via questo disturbo con l'antibiotico e con tutta la cura che il medico aveva prescritto, ma purtroppo c'era qualcosa che non andava. Giorno 24 andiamo per fare un ulteriore controllo, un'ecografia. Tumore. Sì. E eravamo tranquilli, eravamo sereni e quindi il dottore ci ha visto sereni e quasi quasi che mi voleva svegliare, forse pensava che non capivo bene, c'era qualche problema. E metto, ma il Signore Spagnolo ha capito cosa gli ho detto? Sì, ho capito. E da quel giorno abbiamo avuto un mese di fuoco, perché controlli, andate al ritorno da Catania, tutti i tipi di controlli, risonanza magnetica, nucleare, con contrasto, tutti controlli possibili. E non abbiamo detto niente a nessuno, tranne al nostro pastore, pastore Ottavio Prato e sua moglie. non potevamo dire niente ai nostri genitori, sono anziani, mia mamma soffre di depressione. Ai nostri figli non abbiamo detto niente e abbiamo continuato a servire il Signore. Ci sentevamo in quella prigione, ci sentevamo braccati, ostacolati, come Pietro, da 16 soldati. La condanna era ormai scritta, come avevano ucciso Giacomo, era quello che attendeva anche Pietro. La sendenza era data da parte degli uomini, la sendenza era scritta. Nessuna possibilità, impossibile, a uscire da quella situazione. Ma grazie a Dio che l'ultima parola non è degli uomini. L'ultima parola aspetta il Signore, perché lui è l'alfa e l'omega, lui è il principio e la fine. Lui è la del mattino. È lui che decide la nostra sorte. In tutto questo vediamo come il popolo, la Chiesa, era riunita e pregava costantemente. Fervide preghiere erano state fatte dalla Chiesa per mezzo dello Spirito Santo per Pietro. Perché? Perché? Voglio elencarvi qualche parola che ha a che fare con questo, perché qua si tratta di proposito. C'era un proposito di Dio sulla vita di Pietro. Dio aveva parlato a Pietro e voglio darvi qualche versetto e vogliamo iniziare da Giovanni, o meglio, perdonatemi, da Matteo. Abbiamo tanto da dire e quindi vogliamo iniziare da Matteo, capitolo 4, dal versetto di Dio, camminava lungo il mare della Galilea. Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro, Gesù, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Quindi c'era un proposito, c'era una parola chiave, c'era questo proposito meraviglioso sulla vita di Pietro. Io ti farò pescatore di uomini. Quindi lui aveva questa parola nel suo cuore. Era una chiamata, una chiamata rivolta da Gesù, che è l'ultima parola. Quindi questa sera ti voglio chiedere qual è il proposito che Dio ha per la tua vita. Hai mai ricevuto una parola? Hai mai ricevuto una chiamata? O meglio, l'hai sentita? L'hai ricevuta? Hai constatata qual è la parola che Dio ha per te? Qual è il tuo proposito? Perché sei stato salvato, salvata? Perché sei ancora qua. Vivo, respiri, guardi, cammini. Qual è il proposito spirituale? Che non è quello naturale. Naturale è lavorare, avere una famiglia, fare tante altre cose, realizzarsi magari, ma non ha niente a che fare con quello spirituale. Hai capito qual è il proposito del Dio per la tua vita? C'era un altro proposito. Oltre a diventare pescatore, cioè diventare un grande evangelista, imbatti già si era visto questo perché dopo la prima predicazione 3.000 persone salvate aveva iniziato a pescare bene. Quindi il primo proposito era già adembiuto e si stava adembiando. Ma c'era un altro proposito. Leggiamo Giovanni capitolo 21 dal versetto 15 dove dice quando ebbero fatto colazione Gesù disse a Simon Pietro Simone di Giovanni mi ami più di questi? Egli rispose sì signore tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta Simone di Giovanni mi ami? Egli rispose sì signore tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta Simone di Giovanni mi vuoi bene? Egli rispose signore tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse pasci le mie pecore. C'era un proposito. C'era un proposito. E quindi quando la chiesa pregava intensamente per Pietro anche la chiesa si ricordava di quel proposito che Pietro aveva. Mentre che pregavano sono sicuro che direi signore tu lo sai. La parola che tu hai rivolto al tuo servo la chiamata ci deve curare ci deve pasturare. Deve pascere il greggio che tu gli hai affidato. Quindi non può stare in quella prigione. non può stare in quella prigione. Lui deve uscire perché c'è un proposito sulla sua vita e ha a che fare con il bene della chiesa con il greggio che tu gli hai affidato. E questi siamo noi. Quindi c'era un proposito e Pietro lo sapeva e dormiva serenamente perché l'ultima parola non ce l'ha Erode. E può mettere dieci sedici soldati. Può mettere tutto l'esercito contro perché la Bibbia dice anche quando un esercito si accampasse contro di me io non temerò. Gloria a Dio. Alleluia. Ma quale è il proposito della tua vita? Ritorno perché sono qua a Catania. L'ultimo esame che abbiamo fatto è stata la biopsia. E la biopsia è risultata che il tumore era benigno. Però la certezza c'era soltanto quando poi aprivano e toglievano questa massa. E gloria a Dio oggi abbiamo avuto un miracolo. Perché mia moglie questa mattina è stata operata. E la chiesa ha pregato intensamente. La chiesa che Dio mi dà grazie di curare ha pregato intensamente. Abbiamo ricevuto una parola da parte di una sorella che quella massa appena che diciamo l'intervento dove essere svolto già non c'era quasi più. E durante l'intervento questa mattina mi hanno chiamato l'ospedale. Io ero là in attesa. E volevano la risonanza magnetica perché c'era qualche cosa che a quanto sembra non compaceva, non corrispondeva. Sono sceso giù. Ero davanti alla sala. Ero davanti alla sala operatoria. E ovviamente ho pregato. E grazie a Dio il dottore è uscito. E metto guarda. Grazie a Dio. Veramente. Non c'era quello che si aspettavano. Si era ridotto già a minimi termini. E quindi è stato un gioco di ragazzi. Perché c'è un proposito. C'è un proposito. E quando c'è un proposito tu adempierai il proposito che Dio ha per la tua vita. Gloria a Dio. Qual è il proposito di Dio per la tua vita? Non di Pietro. Non di Stefano. Non del pastore Cataldo. Qual è il tuo proposito? Questo messaggio vuole risvegliare la tua parte spirituale e dirti qual è la parola che tu hai ricevuto. L'hai sentita? L'hai percepita? Se ancora non l'hai percepita chiedi a Dio e chiedi con vede e fai la tua preghiera e prega Signore qual è il proposito che tu hai per la mia vita? Perché siamo salvati e pregati grazie. Amen. Ma quale è il proposito? Qual è il proposito che Dio ha per la tua vita? Gloria a Dio. Quando c'è il proposito il nemico ti può spaventare, ti può incarcerare, ma passerai dalla prima guardia, dalla seconda guardia e anche se ci dovesse essere una porta di ferro si aprirà davanti a te senza alcun aiuto da manduomo si aprirà da sola perché non può ostacolare il cammino che Dio ha tracciato per te. Nessuno può ostacolare una persona salvata per grazia di Dio che ha un proposito ricevuto dall'onnipotente. Gloria a Dio. Io a breve me ne andrò da Catania con mia moglie e continueremo la strada che Dio ha tracciato davanti a noi. È quella di servirlo fedelmente, di recuperare anime, di curare famiglie, di continuare il nostro compito con la scuola domenicale, con gli studi biblici, con l'evangelizzazione perché quello è il proposito che Dio ha per noi. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Nessuna prigione può ostacolare uomini e donne, uomini e donne che hanno un proposito da parte del Signore. Tanti carceri, anche Paolo e Sila, nei carceri, ai ceppi, al buio, ma appena cantavano, appena che pregavano. E là non c'era neanche la chiesa, ma c'era il Signore che è il capo della chiesa. Alleluia. Gloria a Dio. Quindi voglio pregare per te questa sera. Ricevi il proposito di Dio. ricevi il proposito di Dio. Ricevi la tua chiamata. Ricevi, ricevi, ricevi il proposito di Dio per la tua vita, per la tua casa. Ricevi il proposito. Qual è il tuo proposito? Non lo so, ma Dio te lo rivelerà. Dio te lo rivelerà. Dio te lo rivelerà. Nel nobito. Alleluia e ti benediciamo. Perché questa sera tu ancora hai dei propositi, tu ancora hai delle chiamate. Vuoi risvegliare, vuoi chiamare, perché la messa è grande, gli operai sono pochi. Risveglia i tuoi servi. Rivela i tuoi propositi divini per ognuno, affinché ancora una volta il nemico sia svergognato. Erode fu svergognato. Il nemico è svergognato davanti a coloro che lo servono. alleluia. Matano è sconvitto nel nome di Gesù Cristo. Da coloro che hanno un proposito, che lo seguono, lo adendino fedelmente. Come questa trasmissione, come il pastore Cataldo, che noi benediciamo ancora a quest'età. Gloria a Dio. Condino a benedirlo, a sostenerlo, perché ha un proposito, un grande proposito per la nazione. Gloria a Dio. Alleluia. Salva, libera, guarisce e battezza ancora col tuo spirito. E chiama uomini e donne con un proposito. nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen.